Allora, vero, vero Nicolò, grazie anche al tuo contributo, siamo riusciti a collegarci. Siamo riusciti a collegarci, fra l'altro appena terminata la riunione con Letta, quindi insomma è un po' agitato, ma sappiamo che vorrà parlarci di temi proprio per i giovani, proprio per contro questa anzianità dei politici, vedremo cosa ha da dirci il nostro Presidente. Presidente! Sì, buonasera, buonasera, buonasera a tutti One Nation, One Station, The Sound of the Underground. Allora, volevo smentire assolutamente il fatto che io sono, insomma, avanti con l'età, mi sto ringiovanendo, ho il mio profilo Facebook che si chiama Giorgio Napo Napolitano, dove ho chiesto anche amicizia ai Traccia24, sto attendendo che me la diano, ho Instagram, proprio adesso sul mio cellulare, Instagram vuole accedere alle tue fotografie, certamente ho dato l'ok, poi insomma ho amicizia, ho taggato Enrico, Henry Letta, che oggi abbiamo fatto la nostra una riunione, che tra l'altro c'è anche uno, che voglio segnalare e denunciare, che ha clonato il profilo di Enrico Letta, si chiama Maio e il suo profilo si chiama Letta Maio. Beppe Bifida e i suoi doppiati, davvero complimenti Beppe! C'era ancora una domanda che volevi fare al Presidente, sì, volevo sapere se avrebbe postato anche le foto di questa sera, insomma, nel suo Instagram. Allora, questa sera ho postato delle foto, però sono io e la mia Clio, ovviamente le ho messe in profilo privato, hashtag, ho messo l'hashtag privato, ecco, ovviamente, però voglio dire e lanciare un messaggio per un'Italia sempre coesa, ho detto coesa e non scoressa. Coesa, coesa, sì, coesa, coesa, Presidente! Coesa!